Benvenuti su meteogiuliaci.it oggi, martedì 25 settembre, nubi al sud perché raggiunte da un corpo nuvoloso proveniente dal nord Africa. Dalla sera peggiora di nuovo al nord per l'arrivo della parte più avanzata della perturbazione numero 5 di settembre che ritroviamo su Statellite in tempo reale. Infatti eccola qua, questa è la perturbazione che arriverà in serata mentre questo è il corpo nuvoloso che porterà un po' di nuvole sulle regioni meridionali. Andiamo a vedere la previsione per la giornata odierna. Al mattino molte nuvole al nord ma senza fenomeni e qualche banco di nebbia sul basso Piemonte, sul basso Veneto e sull'Emilia Romagna in diradamento. Qualche pioggia sulla Sardegna, nubi sulle regioni meridionali ma senza fenomeni. Nel pomeriggio e nella sera peggiora di nuovo sulle regioni del nord con qualche temporale sulla Liguria, sull'Alta Lombardia in estensione verso le regioni di nord-est. Qualche pioggia temporale anche lungo il versante tirrenico. In generale genere sereno e poco nuvoloso altrove. Per quanto riguarda le temperature queste saranno stazionari al centro-nordo e su valori tra 21 e 25 gradi. Ancora un po' di caldo invece al sud con qualche punta di 28-30 gradi sulla Puglia, sulla Calabria e sulla Sicilia. Termino qui, vi ringrazio per l'ascolto. Ancora una buona giornata.